La nascita della Nuova Pescara finisce sul tavolo della Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Ieri una delegazione composta dai senatori Pagano e D'Alfonso, dal promotore del sì referendario Costantini, dal presidente della Commissione Statuto della Nuova Pescara Fidanza e dal presidente della Commissione Statuto e Regolamento di Pescara, Croce, si sono recati al Viminale. Abbiamo portato alcune questioni che sono già sul tavolo da tempo, di cui la Ministra era già al corrente, che riguardano fondamentalmente la questione delle rappresentanze all'interno dei tre Consigli Comunali che partecipano a questo processo di fusione. Siccome la norma oggi non consente la partecipazione al processo di fusione dei tre Consigli Comunali, avendo giustificazione per poter partecipare e che la norma del TUEL non contempla anche dentro al processo di fusione questa partecipazione, la Ministra ci ha chiesto di attivarci per fare una richiesta, naturalmente lei è d'accordo con questa impostazione, per fare in modo che ci sia un intervento legislativo il più veloce possibile che rimuova questo problema che sta dentro ai processi di fusione. Dell'incontro a Roma noi non sapevamo nulla, fanno sapere Ernesto De Vincentis e Lucio Patricciani, presidenti del Consiglio Comunale rispettivamente di Montesilvano e Spoltore, che lamentano come non si sia dato spazio ai due comuni cosiddetti minori. Nel 2014 c'era stato il referendum per la fusione, vinse il sì col 64%, poi dopo anni di battaglie politiche nel 2018 si giunse con approvazione all'unanimità alla legge regionale che impone il 2023 come limite massimo per la nascita della grande città. I tre sindaci dei comuni interessati potrebbero decidere una sola volta di prorogare la scadenza al 2024. È un lasso di tempo che io ritengo sia ampiamente sufficiente, perché tanto il processo di fusione non è tanto complicato da un punto di vista, diciamo così, strettamente organizzativo, anche se è molto complesso e molto complicato, ci sono bisogni di risorse, ma il processo di fusione è delicato anche da un punto di vista politico, cioè bisogna trovare le sinergie di questi tre comuni che mettono in piedi, e realizzano di fatto anche politicamente parlando questa fusione, che è molto complessa, molto delicata. I comuni più piccoli, quindi Montesilvano e Spoltore, hanno mostrato qualche perplessità che va assolutamente tenuta in considerazione. La norma stabilisce che ci possono essere dei municipi che quindi possono rimanere così come sono adesso, magari anche ampliarli, addirittura con cariche elettive. Quindi non è che resta un municipio che svolge soltanto un servizio, ma possono essere municipi, come dice già la norma, non c'è bisogno di modificarla, che consentirebbe anche di fare municipi elettivamente presenti sul territorio, con delle specifiche competenze. Ecco, tutte quante queste cose, ancorché consentite dalla legge, vanno codificate all'interno di questo percorso, scritte all'interno dello Statuto e diventa carta costituzionale per la nascita di questi tre comuni. Queste perplessità politiche di cui parla ad oggi sono superate se tutti di comuni intenti o c'è ancora qualcuno che rema contro? No, io non penso che ci sia qualcuno che remi contro. C'è qualcuno che più di altri ha qualche perplessità, ha qualche angolazione della veduta di questa questione che tenga conto il più possibile del mantenimento, diciamo così, della storicizzazione e soprattutto delle peculiarità di questi tre territori. Grazie.